ciao a tutti seconda puntata dedicata allo scenografo pittore antonio panzuto che ha curato le scene di diversi spettacoli di cui è stato regista paolo valerio nel primo incontro ci ha parlato ma soprattutto ci ha mostrato la genesi delle scene di esabelle oggi ci parlerà di altri spettacoli nati da questo sodalizio il primo è il deserto dei tartari nel 2016 prodotto dal teatro stabile del veneto uno spettacolo che è rimasto particolarmente nel cuore ad antonio panzuto il lavoro era complicato perché ricostruire su un palcoscenico una fortezza come quella della fortezza bastiani era veramente una sfida e in più questo doppio incrocio con le immagini di buzzati aveva un altro sviluppo e un altro valore quindi il pensiero era questo noi non siamo all'interno della fortezza ma siamo come se fossimo sul tetto come se avessimo raggiunto l'ultimo piano di questa fortezza e quindi i soldati e tutto lo sviluppo della scena avveniva in questo luogo che poi non era così chiaro definito perché perché da un lato a me interessava che lo spazio non fosse così preciso definito ma avesse una grande capacità di dissolversi come la nebbia di cui parla buzzati come le immagini come le idee in fondo come shakespeare dice siamo fatti della stessa sostanza dei sogni quindi lo sviluppo della scena era queste questi percorsi costretti dei soldati perché appunto vivono in uno spazio piccolo rinchiusi in questa fortezza ma in fondo il loro grande desiderio era quello di uscire e di tirare fuori e di guardare oltre ecco questo questa è una cosa che mi aveva colpito moltissimo di del testo di buzzati il fatto che loro continuassero a guardare col cannocchiale di guardare quello che succedeva e questo illudersi di questa attesa del nemico che stava per arrivare questo desiderio che in fondo è il desiderio umano di della vita della complessità della vita quindi insomma diciamo il grande pensiero che abbiamo fatto sulla scena era questo non siamo chiusi dentro ma siamo su uno spazio che ci costringe a stare fermi ma ci permette di guardare oltre diciamo questa trasformazione dello spazio attraverso le immagini di buzzati ha questo percorso quando arrivano delle delle scene importanti come gli incontri tra i soldati l'arrivo del nemico queste situazioni qui vengono risolte anche con queste immagini bellissime di buzzati e vengono proiettate sui corpi degli attori anche questo è un altro risultato che come dire viene fuori da tutto il lavoro collettivo che mi hanno fatto io e paolo un altro spettacolo frutto di questo sodalizio è misura per misura del 2018 con massimo venturiello nei panni di un duca che a mo di grande fratello controlla vienna con un computer a ridosso del palcoscenico il personaggio di venturiello era complicato perché paolo era molto innamorato di questa figura che potesse regolare il gli avvenimenti sul palcoscenico ma in fondo era quello che voleva shakespeare il re che torna di nascosto in mezzo alle strade di viena a controllare il suo regno e vedere che tutto vada secondo i suoi calcoli e anche nascosto perché voleva in realtà determinare alcune alcune azioni degli attori alcune azioni di quello che succedeva nella città era importantissimo quindi cosa abbiamo studiato questa specie di postazione orwelliana in cui col computer poteva controllare i vari spazi dopodiché anche in questo caso ci siamo avvalsi di proiezioni in questo caso erano dei quadri che io realizzo appunto perché sono di fondo un pittore alla mia origine artistica proprio la pittura e queste proiezioni su grande scala avevano questo effetto straniante anche di raccolta proprio della dello spazio mi viene in mente la scena delle strade di vienna in cui abbiamo proiettato proprio su queste tende che si muovevano dei segni molto molto forti grigi come graffianti e vedevi questi segni sul corpo degli attori insomma avevano una forza secondo noi molto molto efficace lo stesso quando ci sono c'è la situazione del convento che abbiamo trasformato il palcoscenico in una pittura arancione potentissima aveva questo stesso questo stesso segno in fondo in misura per misura c'è una sintesi sul mio pensiero scenografico e pittorico abbastanza importante per per quanto riguarda il mio lavoro insomma un altro spettacolo del sodalizio con valerio è le ho mai raccontato del vento del nord protagonisti chiara casetti e lo stesso valerio vento del nord anche lì che lavoro infinito i due protagonisti si scrivono a distanza delle lettere e non si vedono e dovevamo ricreare sul palcoscenico questa situazione sono sempre di non dico di spalle gli attori però c'è un muro tra di loro che li divide ecco e questo è stata la prima la prima cosa però il pubblico deve vederli io ho visto anche altre messe in scena che avevano fatto altri scenografi soprattutto in austria dove appunto questo testo è anche più era stato molto più letto e più ricostruito sul palcoscenico quindi questo era un elemento diciamo dato dal testo questo fatto della distanza abbiamo ricreato i due appartamenti quello di lui un po più serio e con delle finestre che dessero un po la sensazione di essere all'ultimo piano della casa quindi con delle dei segni un po più complessi della sua stanza proprio di costruzione come se fosse un set cinematografico in fondo e la stanza di lei più ovviamente femminile con una finestra dalla quale lei poteva veramente come dire che la finestra potesse diventare quasi uno spazio infatti abbiamo costruito la finestra come con una soluzione di come se ci fosse un divano legato alla finestra era strana questa cosa però poi è diventata per l'attrice un'isola dove dove potersi raccogliere era un luogo quasi cinematografico la scenografia del vento del nord e sempre da questo sodalizio è nato in recente il muro trasparente che come Isabel ha vinto dei premi per le scene la barriera è nata prima del coronavirus e quindi era logico che se lui volesse giocare in diretta dovessimo creare una situazione di blocco rispetto alla pallina la pallina doveva ritornargli quindi è stato molto naturale il fatto di costruire un muro in plexiglass dopo il plexiglass è diventato parte della nostra vita in questi giorni terribili però questo è un'altra cosa ma in contemporanea avevamo bisogno anche che il pubblico vedesse la situazione di che cosa vuol dire giocare a tennis io sono andato a vedere spesso Paolo giocare nei campi e quindi avevo mi ero fatto un po' questa questa storia in realtà quando tu guardi uno giocatore di tennis hai anche di fronte l'altro pubblico ed è importante anche se vedi le partite di tennis in televisione questa cosa mi ha un po' intrigato e allora che cosa volevo ricostruire da un lato il fatto che lui potesse giocare continuamente dall'altro che il pubblico avesse negli occhi un campo la folla e questa situazione qui poi ricostruendo a video alcune suggestioni di partite di grandi campioni di pubblico che attende e anche legate al cinema perché ci sono dei film molto interessanti legati appunto al tema del tennis ho ricostruito una specie di storyboard durante la partita e quindi si crea anche qui abbiamo anche anche in questo caso ho lavorato su questo doppio fondale perché poi le proiezioni colpivano sia il primo che il secondo fondale insomma questa fa parte anche un po' dalla nostra esperienza di crescita tra regista e scenografo insomma per questo sono anche molto contento che si vede un'evoluzione tra del mio lavoro con un regista tante ancora le cose che potrebbe raccontarci antonio panzuto la sua attività pittorica e altre scene che ha curato tra cui quelle della locandiera con amanda sandrelli pista anche al nuovo male riparleremo in un'altra occasione ciao a tutti e un grande grazie ad antonio panzuto ciao 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 ciao